Con il nuovo acquisto dell'FBC Saronno, il primo nuovo acquisto ufficiale che possiamo presentare di questo nuovo FBC Saronno che riparte dalla promozione. Riccardo, benvenuto intanto, raccontaci qualcosa di te, se ti scopriamo già da subito. Allora, io ai primi anni ho giocato a Lexenia, poi ho avuto un trasferimento a Grisnova, dopodiché mi hanno contattato il Como, ho fatto tre anni a Como, poi sono andato a Renate, dove ho fatto quattro anni con la Beretti del Renate. Dopodiché sono approdato in promozione, dove ho militato con la Cellasco e dopodiché sono passato al Costa Masnaga. Quest'anno ho voluto rilanciarmi con questa società che, come dice il direttore francioso, vuole comunque avere un successo importante e infatti vorrebbe tornare in eccellenza, dove anche ha giocato l'anno scorso. Io mi metterò a disposizione al 100% per raggiungere questo obiettivo. Una nuova stagione che si presenterà non facile, perché si arriva comunque in un resto. Cosa pensi che puoi portare, perché ci saranno sei giovanissimo, ma non sei neanche un'anziano? Comunque penso di poter portare anche, nonostante la mia giovanità, esperienza nella categoria, perché comunque sono tre anni che faccio la promozione, poi sicuramente tanta quantità, corsa e anche, come dicevo, un po' di esperienza. Benvenuto. Grazie.